Cari naviganti, bentornati. Allora, uno di voi, Simone Giorgini, che approfitto per salutare, mi ha chiesto di fare una puntata specifica su lezioni di piano di Michael Nyman. Allora, ho pensato di fare una cosa un pochettino più strutturata, per cui faremo due puntate. Quella di oggi più generale su Michael Nyman, sulla sua vita, le sue influenze, la sua musica e le sue disavventure musicali, perché come tutti i compositori anche lui ne sono capitate, e la prossima più specifica su lezioni di piano. Allora, Michael Nyman, classe 1944, è uno dei compositori sicuramente che preferisco. Anche se mi sono reso conto solo recentemente, anzi da un paio di giorni, pensando appunto a quello di cui avrei parlato oggi, che se mi chiedono quali sono i miei compositori preferiti di colonne sonore, io non lo cito. E non lo cito, no perché non mi piaccia, tutt'altro, per me è stato veramente un faro nella mia, come dire, nella mia formazione. Ho scritto tanti pezzi da ragazzo, insomma, che si ispiravano alle sue musiche, e il suo tipo di approccio e di estetica musicale mi è sempre stato molto, molto, molto caro. Però, in realtà, io non lo considero un compositore di musiche da film, innanzitutto perché sarebbe riduttivo farlo, perché ha scritto comunque tanta musica per così tante situazioni, che sarebbe riduttivo pensarlo solo come compositore di musiche da film. Michael Lawrence Nyman nasce, vive e lavora a Londra, ci studia anche, si diploma alla Royal Academy of Music e al King's College of Music di Londra, forse le più importanti scuole musicali di Londra e forse di tutto il Regno Unito, se dobbiamo dirle tutta. Inizia, in realtà, la sua carriera più che come compositore, come musicologo e come critico musicale. Viene, come dire, annoverato tra i principali esponenti del minimalismo musicale. In realtà, leggenda vuole che sia stato proprio lui il primo, nel 1969, in un articolo che vi ha scritto per un giornale di musica, a utilizzare il termine minimalismo applicato alla musica. Che cos'è il minimalismo? Lo dico in pochissime parole, per chi non fosse familiare col termine. È un genere di musica, che poi può essere applicato all'immagine o può essere riferito anche alla musica assoluta, che sfrutta una serie di cellule ritmiche o melodiche o armoniche di un brano e le ripete, le rielabora, sempre però partendo da un materiale tematico abbastanza limitato e quindi la stessa cellula ritmica o la stessa cellula melodica o la stessa cellula armonica a cui poi vengono fatte delle variazioni, delle modifiche. Però, insomma, ecco, spesso la tonalità resta la stessa, quindi c'è una sorta di ripetitività che non per niente i principali detrattori del minimalismo non lo amano proprio per questa ragione, perché lo trovano monotono, perché lo trovano ripetitivo. È un approccio diverso alla musica, insomma, ecco, esattamente come diverse scuole di scultura o di pittura. non necessariamente devono dipingere un ritratto come lo farebbe, come l'avrebbe fatto Tiziano o Raffaello, per la stessa ragione in musica si è applicato, in tempi recenti, insomma, quindi, diciamo, nella seconda metà del secolo scorso, il minimalismo e altre tecniche anche, ovviamente, in certi casi anche più estreme. Come probabilmente avete colto, io cerco sempre di darvi dei contenuti che non siano troppo scontati, nel senso, cerco di evitare di raccontarvi quelle cose che potreste tranquillamente trovare su Wikipedia. Faccio invece una minuziosa, attenta e spesso approfondita attività di ricerca di informazioni, non voglio dire, insomma, che non si sappiano, ma che magari sono solo all'orecchio degli addetti ai lavori. Ed è per questa ragione che, volendo fare una panoramica su Michael Nyman, non vi parlerò delle colonne sonore che ha fatto, perché queste è troppo facili, ripeto, potete farvelo anche da voi. Invece vi parlerò delle colonne sonore che non ha fatto, perché sì, anche lui, e ormai lo sapete, è una tematica ricorrente, è stato, come dire, afflitto dalle rejected scores, cioè quelle colonne sonore che vengono commissionate a un compositore e poi, per tutta una serie di ragioni musicali o anche extra musicali, a volte contrattuali, a volte personali, a volte di pura sfortuna, poi vengono tolte a quel compositore e vengono affidate a un altro. La carriera di Nyman, ancorché sia stata abbastanza una carriera di successo sin dagli dei suoi esordi in musica, ha sicuramente uno spartiacque che è Lezioni di Piano, nel 1993, che vedremo meglio la prossima volta, vedremo nel dettaglio. Quindi, come dire, c'è un prima Lezioni di Piano e c'è un post-Lezioni di Piano. Siamo nella fase del prima Lezioni di Piano e, in realtà, il primo di questi tre casi che vi racconto non è esattamente un rejected score, però è un progetto che era stato affidato a lui e che lui però non ha potuto portare a termine, per sua volontà in questo caso, quindi non c'è stata una volontà da parte del regista e della produzione. Tutti sanno che la carriera, in particolare cinematografica, la carriera di compositori, di colonne sonore cinematografiche di Nyman è legata a doppio filo con quella di Peter Greenway, regista britannico, visionario, molto amato e molto odiato al contempo, però sicuramente può piacere o non piacere, ma sicuramente viene a dire un regista estremamente originale. Con lui Nyman fa ben sette film e oggi siamo nel 1987, quindi ancora prima del grande successo mondiale di Lezioni di Piano e il film che sta facendo Greenway è The Belly of Architect, che in italiano era stato tradotto con Il Vente dell'Architetto. Nyman e Greenway hanno già fatto tre film insieme e quindi a Greenway sembra normale affidare lui la colonna sonora del suo film, appunto, The Belly of Architect. Ma come abbiamo visto tante volte, le tempistiche di una colonna sonora sono sempre molto strette e in questo caso non c'è un vero e proprio rejected score, ma è il Nyman stesso a rinunciare a questa colonna sonora perché è impegnato nella scrittura di un'opera lirica che lo impegnerà ancora per parecchi mesi e quindi non può, come dire, dedicare quelle classiche quattro o sei settimane che generalmente vengono date nella produzione o dal regista a un compositore per scrivere la colonna sonora e quindi è la prima volta praticamente in cui la collaborazione offerta da Greenway non va in porto. Poi ce ne saranno altre, ce ne saranno altre, ma nel senso che Greenway lavorerà anche con altri compositori, ma insomma sicuramente il binomio Nyman-Greenway resterà negli anni. Come abbiamo detto nella carriera di Nyman c'è un pre-lezione di piano e un post-lezione di piano. È il 1998 e il film la cui colonna sonora viene affidata a Nyman è Practical Magic che in italiano era Amori e Incantesimi con Sandra Bullock e Nicole Kidman. Teniamo da parte la Kidman perché la ritroveremo più avanti. Il regista gli affida la colonna sonora e lui naturalmente la fa secondo quelle che sono le sue, come dire, i suoi standard e i suoi parametri. Cioè Nyman, anche Kirby, ha scritto parecchie colonne sonore. Non è sicuramente ascrivibile la categoria dei compositori cosiddetti hollywoodiani, cioè non fa parte di quel mondo lì. Scrive le sue colonne sonore con il suo modo di vedere, la sua estetica, il suo gusto, che molte volte, soprattutto con i film di Greenway, è un gusto anche un po' che va sul grottesco. Sta di fatto che quando un regista ci affida una colonna sonora, noi compositori siamo portati a pensare che quel regista ci affida la colonna sonora perché ha ascoltato i nostri piacenti lavori e quindi gli piace il nostro stile, gli piace la maniera in cui lavoriamo. Soprattutto quando è la prima volta che lavoriamo con un regista. Per cui, quando al buon Nyman viene offerta la colonna sonora di Practical Magic, lui fa il Michael Nyman alla situazione perché lui non è assolutamente un compositore cosiddetto hollywoodiano, non fa parte di quella musica scrivibile a James Horner o a John Williams o a Hans Zimmer, pur con qualche piccolo distinguo. Insomma, Nyman è un mondo a sé. Se scritturi Nyman è perché ti piace come scrive quello che scrive. Insomma, diversamente scrittureresti un altro dei grandissimi compositori, dei grandissimi professionisti che ci sono che ci sono nel mondo delle colonne sonore. Quindi lui fa la sua colonna sonora, la registra agli Abbey Road Studios che sono gli studi più importanti e storici dove si registra le colonne sonore e però, ahimè, quando poi presenta la colonna sonora al regista, al regista la colonna sonora non piace. Nyman rimane veramente molto infastidito da questa cosa sia perché fondamentalmente fa appello al discorso che vi ho detto prima, cioè se mi hai chiamato è perché ti piace come lavoro io, altrimenti se volevi una cosa più, come dire, tradizionale avresti dovuto chiamare un compositore più tradizionale. E poi perché lui è molto attaccato alla musica, dice addirittura che quella è la più bella colonna sonora che abbia mai scritto. Ma comunque, nonostante questo, nonostante le sue lamentele e tutti i dispiaceri che poi avevo provato, la colonna sonora viene rifiutata e viene affidata ad Alan Silvestri che abbiamo già incontrato diverse volte. grandissimo compositore, grandissimo professionista. E mi viene da pensare che a volte la differenza tra una rejected score e quella che poi effettivamente va sul film non è sempre gigantesca. Cioè molte volte ci sono delle ragioni veramente imperscrutabili per cui una colonna sonora viene rifiutata e non è sempre una ragione musicale. Ecco, in questo caso invece è una ragione prettamente musicale. Nel senso che proprio alla produzione, al regista proprio non piace il lavoro che viene fatto da Naiman. E quindi Silvestri fa una cosa completamente diversa. Tra l'altro in soli 12 giorni è costretto a scrivere la colonna sonora e fa un lavoro molto bello come quasi tutte le musiche di Alan Silvestri sicuramente molto tradizionale, molto canonico. Insomma, nell'alvio di quella che è la normalità della musica per un film di Hollywood. Io non ho ascoltato la colonna sonora la rejected score di Naiman ma sicuramente non riuscirei a pensare a due compositori più lontani nel fare una colonna sonora tra Michael Naiman e Alan Silvestri. Ironia della sorte, il CD esce prima che la colonna sonora venga rifiutata. Per cui c'è una versione del CD della colonna sonora di quel film con la rejected score invece che con quella che scriverà Alan Silvestri. e questa cosa in realtà Naiman dispiace particolarmente perché dice ormai la musica è uscita quindi essendo uscita non ha potuto come dire riutilizzarla in nessun altro progetto tanto più che come ho detto prima è una colonna sonora che lui, comunque una musica che aveva scritto che lui amava particolarmente. Nonostante tutti i dispiaceri Naiman non ha retta di un centimetro e fondamentalmente di dirà la mia musica è questa se vi piace bene e se non vi piace pazienza non utilizzatela ma se chiamate me tenete presente che io scrivo così. Il terzo e ultimo film di cui parliamo oggi è The Hours film del 2002 con Meryl Streep Julianne Moore e ancora Nicole Kidman che a questo punto comincio a pensare quando c'è di mezzo Nicole Kidman Michael Naiman va a finire che poi la colonna sonora non la fa. Allora che cosa succede? Il regista e la produzione volevano Philip Glass altro compositore importantissimo non tanto nel mondo delle colonne sonore ma nel mondo appunto della musica assoluta e in particolare uno dei principali esponenti del minimalismo in musica ma sono convinti che tanto lui rifiuterà perché non gli propongono neanche di scrivere la colonna sonora perché dicono ma figurati non accetterà mai e quindi si rivolgono a Naiman nella convinzione che comunque anche se Glass e Naiman sono diversi comunque sempre di minimalismo musicale si tratta e quindi probabilmente che il lavoro che farà Naiman sarà abbastanza simile a quello che avrebbe fatto Philip Glass ma prima ancora di arrivare a Naiman la colonna sonora viene offerta a Stephen Warbeck che era diventato insomma abbastanza noto in quegli anni per aver fatto due film di grande successo cioè Il Mandolino e Il Capitano Corelli e in particolare Shakespeare in Love per il quale tra l'altro aveva vinto anche l'Oscar ma comunque il lavoro che fa non viene non viene gradito dalla produzione del regista e quindi viene offerta la colonna sonora a Michael Naiman nella convinzione come detto che avrebbe fatto un qualcosa di molto simile a Philip Glass ma Naiman è Naiman e Glass è Glass sono due compositori diversi anche se all'interno di un movimento che appunto possiamo definire come minimalismo musicale quindi praticamente Naiman scrive una demo fatta da 11 da 11 musicisti la fa ascoltare la produzione dicendo guardate questo qua più o meno è il risultato è molto simile a quello che può essere il risultato finale che ho nella mia testa la produzione non piace e cosa faranno? quindi rifiutano la score di Naiman e proporranno proviamoci a Philip Glass di fare la colonna sonora il quale Philip Glass dirà ma perché non me l'avete chiesto prima e accettere di fare la colonna sonora nel raccontarvi tante storie di Rejected Score nelle puntate scorse raramente abbiamo assistito al fatto che si sia passato in un compositore A e si sia rifiutata la colonna sonora e si è andati a un compositore B e poi rifiutata anche quel compositore B si sia tornati al compositore A generalmente si c'è che è un compositore C ecco invece nel caso del film Far North Estremo Nord del film del 2007 la colonna sonora è stata affidata a Dario Marianelli col quale tra l'altro il regista aveva già lavorato in tre precedenti film quindi con cui c'era già un rapporto collaudato dopodiché per ragioni mai del tutto chiarite Marianelli fu fatto fuori dal progetto venne chiamato Michael Nam a scrivere la colonna sonora ma la colonna sonora fu rifiutata e si tornò invece alla musica di Marianelli che evidentemente non è particolarmente suscettibile buon per lui che sto a permettere bene naviganti si chiude qui la prima parte la panoramica che abbiamo fatto sulla vita e sulle opere di Michael Nyman soprattutto le opere che non ha fatto che come ho detto all'inizio mi sembra come dire un approccio più interessante che limitarsi a guardare le cose che ha fatto non mancate la prossima puntata che parleremo nello specifico del film The Piano che poi in italiano era stato tradotto e distribuito ed è famoso e conosciuto a tutti come lezioni di piano non mancate grazie